Andiamo a Lampedusa dal nostro inviato Matteo Parlato per conoscere qual è la situazione sull'isola. Buongiorno, buongiorno a Lampedusa. Questo che vedete alle mie spalle è un 300, sono i battelli proprio per il salvataggio, i modelli SAR, Search and Rescue. Da questo battello poco fa, ve l'abbiamo fatto vedere in diretta, sono scesi 52 migranti, 42 uomini e 10 donne, di cui due incinta. Una addirittura incinta di più di 8 mesi. Fortunatamente le loro condizioni sanitarie, ci hanno detto i medici di Lampedusa, non destano particolari preoccupazioni. Ora sono stati tutti trasportati al centro di accoglienza. Questa operazione di recupero è cominciata ieri alle 4 del mattino ed è finita poco fa, a mezzogiorno. E in questo momento, non so se vedete qui accanto a me, ci sono dei vuoti. Questo vuol dire che ci sono altri due SAR 300 come questi che sono partiti. Quindi c'è un'altra operazione in corso. Il flusso, come giustamente dicevi te, è un flusso che è molto ampio, che parte da Libia e poi arriva in un ventaglio che va da Malta alla Sardegna. È in attività, è in funzione. C'è una corrente umana che dalla Libia punta verso la più ricca Europa. Tutti questi viaggiatori della speranza. E questo è, anche qui, è chiaramente visibile, proprio in questi vuoti. E qui, per cui, fra qualche ora, fra diverse ore, perché ho detto questo qui, è partito alle 4 di notte, è arrivato a mezzogiorno, per cui stiamo parlando di viaggi lunghi, operazioni molto lunghe. Per cui, fra diverse ore, avremo un riscontro su che cosa, quante persone porteranno, com'è andata l'operazione. E qui, però, a Lampedusa è rimasto sempre forte e vivido, ancora, il ricordo della visita del Papa, di Papa Francesco. Noi abbiamo sentito il parroco di quest'isola che ci ha raccontato le sue emozioni su questa visita. Sentiamo. Non mi aspettavo tanto, non mi aspettavo tanta attenzione, mi sono sentito anche in qualche passaggio in difficoltà, perché quello che si è chiesto sempre era la vicinanza del Papa, del Vescovo di Roma, a questa comunità, e attraverso questa comunità, al cuore della Chiesa. Lui ha osato più di quanto noi avevamo desiderato. Io ho detto sempre, noi non abbiamo fatto niente di eccezionale, non siamo migliori degli altri, non siamo più assoluti. Forse, trovandoci in una fragilità maggiore degli altri, meglio abbiamo compreso le fragilità degli altri. Anche lì va letto un po' il lavoro degli anni passati, o del tempo passato, come anche del tempo presente, per certi versi. L'emozione è stata tanta, l'attenzione molto grande, ma penso che la cosa che mi ha colpito maggiormente è stata questa capacità di Papa Francesco di ascoltarci, di raccontarci al suo cuore. E dal racconto al suo cuore poi quell'invito alla compassione e alla tenerezza.